Buongiorno e bentornati a Quotidiano TV di oggi 9 gennaio. Iniziamo con la cronaca regionale. Ad incastrarlo sono state le immagini hard sulla memoria del cellulare, perso durante un tentativo di rapina. Mercoledì 7 gennaio nel pomeriggio un 19enne rumeno senza fissa dimora stava cercando di rubare l'auto di una 23enne, quando è stato affrontato dal padre della ragazza. Nella collutazione con il pensionato ha perso il suo telefonino prima di riuscire a scappare con alcuni oggetti sottratti all'interno del mezzo. Identificato il malvivente è scattato subito il blitz delle forze dell'ordine, che hanno arrestato due rumeni che sono stati trasferiti al carcere di Pavia. È stato uno sbalzo termico, un evento che può accadere in qualsiasi edificio, all'origine del crollo di parte dell'intonaco di un'aula alla scuola materna statale di Via Leonardo a Sesto San Giovanni. L'episodio è accaduto poco dopo le 10 di ieri, 8 gennaio. I calcinacci hanno ferito sette bambini, ma nulla di grave fortunatamente. Subito dopo l'allarme sono giunte l'ambulanza, vigili del fuoco, polizia locale, genitori e il sindaco Monica Chittò. Dopo la prima ispezione la scuola è stata chiusa e i bambini riprenderanno le lezioni settimana prossima. Lite tra ubriachi nella notte tra mercoledì e giovedì davanti alla stazione di Cadorna a Milano. Un trentenne italiano è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso al Fattebene Fratelli. In ospedale le sue condizioni si sono rivelate meno gravi, ma riporta una ferita da arma da taglio, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia assieme al personale del 118. La discussione sarebbe avvenuta verso mezzanotte e si sarebbe trattato di una lite per futili motivi. Tra i feriti, un italiano di origine brasiliano, un tunisino che poi è fuggito. Entrambi erano in forte stato di alterazione per abuso di alcolici. Nuovi tagli a Milano. Vediamo di cosa si tratta dal nostro servizio. Meno soldi per trame metropolitane. Un annuncio fino a ieri. Un incubo che a Palazzo Marino si tentava di esorcizzare in tutti i modi e che da oggi è invece realtà. Meno 17 milioni di euro solo per il capoluogo. Per l'anno in corso il contributo della regione scenderà da 285 a 268 milioni di euro. Il resto della delibera che la Giunta Maroni approverà stamani racconta di 25 milioni di euro in meno per Trenord e una sforbiciata di 8 milioni per tutte le altre province lombarde. Il totale fa cifra tonda. 50 milioni. Colpa della scura del governo, assicurano dal Pirellone. Alessandro Sorte è diventato assessore ai trasporti da poche settimane. Il taglio da Roma era di 150 milioni. Abbiamo deciso di metterci una pezza mettendo noi 100 milioni di euro. Altrimenti ci sarebbe stato un aumento di tutte le tariffe del 25%. Per non parlare delle ricadute occupazionali. Abbiamo evitato un disastro e la cosa ci è stata riconosciuta anche dagli operatori del settore. Veniamo alla cronaca cremasca e cremonese. A Crema, in località Parco del Serio, che è stato controllato e sottoposto a perquisizione, un marocchino di 60 anni senza fissa dimora trovato in possesso di circa mezzo etto di hashish, suddiviso in diverse dosi pronte per essere spacciate ai giovani cremaschi e nonché una somma di denaro considerata provento dallo spaccio. Il marocchino disoccupato è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, trattenuto nella Camera di Sicurezza per essere processato per rito direttissimo presso il Tribunale di Cremona. L'uomo è stato condannato a 10 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa da scontare in carcere. Hanno iniziato a darsi botte da orbi a Cremona. Protagoniste della violenza sono due donne di nazionalità nigeriana. Le cause del litigio sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi circolate c'è quella che le due donne sono rivali e avessero qualche conto in sospeso. Un passante carabinieri fuori servizio non ha esitato un istante per intervenire. Dopo essersi qualificato, il militare è riuscito a fatica a separare le due donne. A quel punto però una delle due extracomunitarie si è avventata contro lo stesso carabiniere, al punto da costringere il militare a far scattare l'intervento dei colleghi. La donna che ha fatto resistenza è stata condannata negli uffici del comando di Viale, Trento e Trieste, dove nelle ore successive sono scattate alcune misure a suo carico. Andiamo a scoprire insieme la storia del Museo Civico di Crema. Il Museo Civico di Crema nacque almeno da un punto di vista amministrativo con l'assunzione di uno specifico provvedimento da parte del Consiglio Comunale, licenziato in data 13 gennaio 1959. Divenne completamente operativo il 26 maggio del 63, quando venne inaugurato in via ufficiale. Da allora non ha cessato di evolvere, tenendo però sempre presente la funzione per la quale era stato creato, cioè quella di conservare la memoria storica di Crema e del territorio circostante. Non per niente, infatti, i padri fondatori ebbero la felice intuizione di creare un museo che non parlasse solo alla città, ma fosse anche un punto di riferimento per conoscere l'evoluzione dell'intera plaga cremasca nel corso dei secoli. Esso, nei primi anni di vita, veniva chiamato anche Museo Multiplo perché per l'appunto era in grado di ospitare all'interno della stessa istituzione diverse sezioni tematiche della storia del cremasco, che ancora oggi vige questa realtà. Trattiamo la cronaca bergamasca. Lutto cittadino oggi a Bergamo per commemorare le vittime di Parigi. La bandiera comunale è posta a mezz'asta per ricordare i giornalisti e i vignettissi di Charlie Hebbo e i poliziotti morti nella strage compiuta da tre terroristi nella capitale francese. La scritta «Je suis Charlie» in campo nero, che da mercoledì mattina si è diffusa come un tantam sui social in tutto il mondo, è comparsa anche sulla pagina Facebook del comune di Bergamo. Bergamo, sottolinea il sindaco Giorgio Gori, è contro ogni forma di violenza, contro il fanatismo e l'intolleranza. La strage di Parigi è una tragedia che riguarda tutti e tocca il diritto fondamentale della libertà di espressione. Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza al popolo francese. Sara del Bianco, 14 anni, è svanita nel nulla da mercoledì mattina. La ragazza che vive a Settala con i genitori è stata vista alla stazione di Vignate salire alle 6.53 sul treno Varese-Treviglio. Poi di lei si sono perse le tracce. Sara indossava leggings neri con le borchie e stivaletti neri Timberland. È uscita di casa con uno zaino a ispac grigio. Ha lasciato a casa il suo telefono cellulare. Le ricerche continuano a Treviglio, dove la ragazza non è mai scesa dal treno. La famiglia chiede aiuto e chiunque abbia notizie o segnalazioni, contatti le forze dell'ordine. Datti positivi per i musei italiani. Datti dei musei statali italiani 2014 rispetto al 2013 con nuove regole. Visitatori 2.355.000 gratuiti più 987.000 incassi più 8.784.000 euro. Ecco i dati twittati dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini nella serata di giovedì 8 gennaio. Numeri importanti decisamente positivi per la cultura italiana che sfattano le paure sorte quando fu abolita lo scorso primo luglio la gratuità in museo per gli ovri 65. La decisione era contenuta nel decreto firmato dal ministro e la rivoluzione tariffaria comprendeva anche alcune agevolazioni per i giovani fra i 18 e i 25 anni, ingresso gratuito una volta al mese. Un provvedimento che non aveva raccolto molto favore intanto è già online il bando internazionale presentato per la selezione dei direttori dei 20 musei statali al top. Citati nel bando sono divisi in due tranche. I primi sette, dalla Galleria Borghese alla Regia di Caserta, sono considerati uffici di livello dirigenziale generale e per i loro direttori sono previsti emolumenti maggiori. Concludiamo con la cronaca lodigiana. Due giovani fidanzati aggrediti per strada a Lodi senza alcun motivo. È accaduto mercoledì notte in via Defendente nei pressi della Sala Bingo. Il ragazzo di 26 anni è stato colpito ed è finito in ospedale. Inlesa invece la ragazza di un anno più grande. I due aggressori sono poi fuggiti a piedi verso Viale Milano dove a metà della via la pattuglia della Polizia di Stato in collaborazione con i carabinieri li hanno rintracciati. Si tratta di un marocchino di 22 anni e di un lodigiano della stessa età entrambi con precedenti per altri episodi di violenza. È finita a Oriolitta la fuga di un 27enne dell'Equador accusato di tentato omicidio aggravato. Il 5 gennaio scorso a Locati Triulzi avrebbe colpito con una coltellata un connazionale di 24 anni lasciato agonizzante al suolo e poi è fuggito. Ora l'uomo si trova nel carcere di Lodi interrogato dal procuratore capo Vincenzo Russo e dal sostituto Alessia Menegazzo. Infatti ha confessato le sue responsabilità. Oggi il fermo è stato convalidato dal GIP Alessandra del Corvo e il ferito invece ancora in ospedale è fuori pericolo. In calo la criminalità nell'odigiano. L'attività di prevenzione dei carabinieri in costante collaborazione con le altre forze di polizia in particolare Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha consentito nel 2014 di giungere a una riduzione di tutti i delitti pari al meno 14%. In positivo calo anche il trend dei furti in genere che hanno registrato un meno 8,5%. All'interno di questo dato i furti in abitazione si sono attestati su un meno 1,4% rispetto al 2013. In calo il numero delle rapine attestatosi a 4%. In positivo calo i reati di violenza sessuale meno il 59% e le truffe e frode informatica meno il 23%. Sono i numeri principali che emergono dal bilancio annuale dell'attività dei carabinieri della provincia di Lodi. Vi ricordo l'appuntamento di domani con il nostro magazine Quotidiano TV termina qui. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi.